ciao ragazzi ci siamo siamo in diretta dovrebbe essere tutto quanto in funzione tutto quanto a posto se mi sentite se vedete la schermata stiamo per iniziare cortesemente mandate un ok in chat così mi rendo conto che tutto quanto sta funzionando e noi possiamo iniziare fatemi dare un'occhiata intanto a tutte le regolazioni benissimo vedo Guido il primo ok ma c'era già quindi non ero sicuro che fossimo pronti vedo Nunzio, Renata, Giuseppe, Pietro, Ivano, Franco Sergio, Umberto e via via tutti gli altri ciao Emanuela ok allora siamo pronti per cominciare quindi devo schiacciare il bossante giusto che è questo vediamo grazie infinite Franco per l'uso della super chat grazie 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 infinite ciao a tutti bentornati sul canale youtube di Associazione Culturale Maggiolina grazie a tutti per essere qui grazie agli amici che hanno voluto fare le super chat mentre eravamo ancora in attesa della diretta grazie infinite il vostro sostegno e la vostra presenza a queste dirette per noi è importantissima grazie grazie vedo che ci sono già anche un sacco di mi piace per cui grazie infinite ragazzi allora oggi parliamo delle email torniamo a parlare delle email stiamo parlando anche nel mondo cellulare così facciamo le cose insieme ma diamo un'occhiata prima ad altri discorsi allora sul sito amici di Maggiolina intanto che invito tutti quanti gli amici sostenitori a visitare quindi andate su questo indirizzo associazionemaggiolina.it slash amici leggete le istruzioni se non lo avete mai fatto compilate il modulo di richiesta tessera così poi sarete tra di noi e in questo sito mettiamo un po' di cose per renderci l'esperienza più comoda allora questo è il video di oggi post elettronica inviamo i messaggi con gmail sotto qui oggi avevo messo questa frase oggi prima della diretta facciamo due chiacchiere in conferenza premi qui e mi ha fatto piacere vedere che siete stati in tanti a venirmi a trovare a fare due chiacchiere quindi di solito adesso il mercoledì un'oretta prima della diretta facciamo la chat come al solito per eventuali domande e saluti e la conferenza a cui si accede da qui in modo da vederci magari parlarci a voce su alcune questioni e poi alle 18 siamo qui in diretta quindi questa diciamo è la novità che abbiamo iniziato a fare la settimana scorsa questa invece è la novità di oggi serie speciale abbonati quindi video per gli abbonati video dedicati agli abbonati parliamo della linea internet in pratica mi domandate spesso come risolvere eventuali problemi della vostra connessione internet tante volte non si sa neanche se è un problema di connessione se è un problema di computer come fare e quindi in alcuni video adesso parliamo della linea telefonica vediamo che cosa succede vediamo come verificarla vediamo come cercare eventuali problemi insomma vogliamo che il nostro internet sia al top sia il meglio possibile sia al meglio possibile quindi ci saranno 2, 3, 4, 5 video vediamo un po' anche le vostre domande i vostri quesiti su questo argomento per esplorare tutte quante le casistiche e cercare di far funzionare bene il nostro computer e la nostra linea ringrazio Pina ciao Pina grazie 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 infinite per l'uso della super chat perché per noi sappiamo e sai che è importantissimo benissimo ragazzi e quindi ci siamo qui c'è il video anche come partecipare a una videoconferenza in questo modo se partecipate alla nostra conferenza da qui avete già un'idea di come si fa prima di accedere allora una cosa che avevo in mente di fare di dire prima è fare i complimenti a tutti gli amici principianti che hanno partecipato ai nostri corsi che si sono iscritti al canale che si sono abbonati eccetera vi faccio i miei complimenti perché so che non è facile nonostante si cerchi di fare tutte le cose semplici ci sono procedure anche solo per l'abbonamento o anche solo per accedere al sito Amici di Maggiolina che non sono semplici perché ci sono delle questioni di sicurezza delle questioni di regolamenti da rispettare quindi per un principiante so che non è per niente facile essere qui con noi e ragazzi grazie grazie infinite e bravi perché quando ce la fate siete bravissimi siete in tanti chi ancora non ce l'ha fatta non si preoccupi perché un po' alla volta ci arriviamo tutti e quindi si può fare intanto è un po' una scuola anche quella ok allora partiamo con la nostra posta elettronica quindi ci riagganciamo all'argomento della settimana scorsa intanto invito gli amici moderatori Edo che di solito lo fa a tracciare la linea sotto la nostra chat in modo che da questo momento in poi poi andrò a rispondere alle domande quando abbiamo finito l'argomento Edo o comunque uno degli amici moderatori Michele o Aldo che saluto e grazie ragazzi per l'aiuto che mi date perché per noi è molto importante ok allora Gmail nel video precedente ci siamo creati un account Gmail premo sul più vado su Google e qui c'è Gmail la mia casella di posta elettronica in questo caso quella da esperimento faccio io la riga ragazzi così le domande poi le troviamo tutte eccole qua dicevo quella da esperimento per mandare delle email e quant'altro e parlando in conferenza prima mi hanno fatto venire in mente una cosa molto importante che ancora non ho detto nel video precedente abbiamo visto come creare un account di posta Gmail e abbiamo detto usiamo quello perché è molto comune eccetera eccetera usare un account di posta elettronica quindi avere un indirizzo email e cominciare a usarlo è molto importante per tutte le nostre attività quotidiane per noi è importante scegliere bene quell'account perché poi in futuro potremo trovarci nella situazione di dover cambiare quindi di essere in difficoltà un caso specifico se io ho un'attività apro una mia attività comincio a lavorare ho l'account con una compagnia telefonica con una marca di telefonini con non so ormai tutti quanti quando voi fate qualcosa vi danno già un account e quindi un account che vi serve a fare varie cose compresa la posta elettronica non usatelo non usate quei servizi se non consapevoli del fatto che un giorno potreste non volere più quei servizi e perdere tutto quello che c'è dentro sia gli account dei telefonini tutti i telefonini ormai ti offrono il loro account metti qui le foto metti qui questo metti qui quell'altro poi decidi di cambiare telefono quella marca lì non ti piace più ne vuoi un'altra sei legato a quella marca lì e lo stesso con le email oggi comincio ho l'abbonamento con una compagnia telefonica una qualsiasi ho l'account ah bene questa è la mia email comincio a spedire grazie 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 infinite flora per l'uso del super sticker grazie grazie e dicevo quindi comincio a spedire le email riceverle tutte magari ho un'attività comincio a registrarmi sui siti pubblici tasse non tasse previdenza eccetera ho quell'email lì e questa attività cresce nel tempo e ho un sacco di di contatti eccetera grazie Maria grazie grazie infinite per l'uso del super sticker molto importanti grazie mille e dicevo quindi faccio tutto quanto poi un giorno scopro che c'è una compagnia telefonica diversa che fa un'offerta migliore oppure questa compagnia telefonica qui non mi soddisfa più perché insomma non va più bene la cambio il problema è che l'account di posta che ho con questa compagnia qui magari lo devo abbandonare e per farne un altro di là male malissimo è impossibile abbandonare un account di posta soprattutto per un'attività commerciale perché è un grosso problema lasciate un sacco di cose che devono essere traslocate un lavoro enorme e sicuramente qualche dimenticanza se io trasloco la casella di posta su un altro account questo lo abbandono magari ho lasciato un domicilio fiscale un indirizzo email fiscale o qualcosa lì al quale io non posso più accedere loro continuano a mandarmi posta lì e io sono ignaro perché mi sono dimenticato di andare a cambiarlo e quindi è un danno per cui non utilizziamo per la posta neanche personale account specifici di compagnie telefoniche di marche di telefonini di siti internet particolari eccetera perché poi voi lì lasciate un pezzo della vostra della vostra privacy non inteso come poi dopo vedono tutto ma un pezzo di cose che poi vi servono e non riuscite più a tirarvi dietro ciao angelo grazie 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 infinite per l'uso della super chat per cui l'account di posta un account di posta pubblico se lo usiamo a livello personale pubblico ma anche a livello aziendale pubblico gmail ci sono anche altri anche altri gestori libero eccetera storici yahoo eccetera che ci sono da sempre e che andranno avanti presumibilmente sempre in modo che io so che quel servizio ce l'ho finché lo voglio usare ce l'ho sarà un mio desiderio smettere di usarlo ma non di perderlo perché mi sposto altrove quello è un grave problema oppure un account di posta privato mi compro un dominio di internet o mi compro un indirizzo di posta mio personale che mi pago io e lo uso per quello tipo su aruba.it ormai sapete che io utilizzo quei servizi lì li vendono anche account di posta e quant'altro e quello so che è un servizio che prosegue per sempre perché ce l'ho da un sacco di tempo e quindi vado avanti lì intanto ringrazio Umberto ciao Umberto grazie grazie infinite per l'uso della super chat per farvi un esempio info chioccio l'associazione maggiolina.it è un nostro account privato paghiamo un tot sappiamo quant'è e lì abbiamo tutto il mondo maggiolina se un domani dovessi cambiare servizio telefonico cambio compagnia telefonica ma maggiolina resta lì non è legato alla compagnia telefonica siccome cambio compagnia telefonica a tutti voi devo dire no non scrivetemi più qui eccetera impossibile quindi slegate il vostro account di posta da servizi momentanei o un pubblico come può essere Gmail che tra l'altro è d'obbligo per tantissimi servizi o un privato che pago ma è slegato da tutto il resto solo per l'indirizzo di posta tutti gli altri servizi che mi interessano non sono vincolati a quella cosa lì però sappiate che se cominciate a pagarlo come nel nostro caso maggiolina poi ragazzi quello va pagato per sempre perché a un certo punto poi non è che potete se smettete è perché smettete l'attività non perché cambiate indirizzo perché diventa un problema si può fare ma è un lavoro in più e sicuramente c'è qualche dimenticanza va bene basta perché ho già parlato un sacco su questa cosa mandiamo delle email quindi io sono in Google vado sulla mia Gmail col mio account di prova eccomi qua questa è la mia casella di posta immagino che qualcuno mi abbia visto farlo anche nel telefonino il concetto è quello lo strumento il mezzo è diverso perché uso il computer ma stiamo usando la Gmail quindi è la stessa che ho sul telefonino la posso usare qui sul computer la posso usare sul tablet la posso usare sul computer di un amico se me lo presta un attimo io entro con le mie password vedo sempre la stessa posta perché la posta è nella nuvola nel cloud quindi i vari strumenti elettronici mi servono per accedervi ma poi l'utilizzo è sempre quello e il vantaggio è che se io vado in albergo a Singapore ho bisogno di controllare chi mi ha scritto o spedire un email vado sul computer dell'albergo per il pubblico digito le mie password e vedo la mia casella di posta ciao Icaro grazie grazie infinite per l'uso del super sticker grazie grazie bello anche l'augurio quindi adesso scriviamo un messaggio di posta abbiamo creato l'account abbiamo l'indirizzo scrivo un messaggio vado su scrivi ogni tanto la grafica cambia vediamo se riesco a spostarmi allora lì non riesco a spostarmi perché è messo lì e io ci sono davanti quindi vado a spostare me stesso per cui mi prendo ecco qua ok e mi sono spostato quindi questa è la mia casella di posta devo mandare un email un email semplice intanto facciamo il primo invio al volo aspettate che devo gestire un po' di cose ecco faccio il primo invio al volo e la prima cosa questo l'indirizzo l'indirizzo di posta del destinatario scrivo l'indirizzo della persona a cui voglio scrivere io mando messaggio un messaggio a questo indirizzo test pioccio l'associazione maggiolina.it esce già fuori perché faccio questa stessa cosa sul cellulare e allora il mio computer il mio account google che contiene la posta elettronica ha visto che quello è un indirizzo che uso spesso sul cellulare me lo propone e anche su int sul computer me lo propone quindi io basta che prima qui e sono a posto l'indirizzo di posta elettronica è la cosa più importante della vostra email se io lo sbaglio quella email non arriva tutto quello che faccio da adesso in poi se questo è sbagliato è lavoro buttato e tempo perso quindi è importante che io sappia esattamente l'indirizzo giusto non me lo devo inventare nel senso che si chiama danielecastelletti danielecastelletti chiocciolagmail.com perché può essere di un'altra persona può non essere quello eccetera per cui dovete chiederlo all'interlocutore dovete leggerlo da qualche parte se è pubblicato in qualche sito da qualche parte ma dovete saperlo ve lo devono aver detto scritto se ve lo dicono dovete preoccuparvi di scriverlo bene a me è capitato lo dico spesso perché mi è capitato di essere al telefono in questo periodo ci si vede meno per varie ragioni e ci si manda email ci si fanno cose di essere al telefono con qualcuno che stavo aiutando a livello tecnico mi ha detto senti mandami un email adesso non mi ricordo il nome robertotrechiocciolagmail.com ok io scrivo robertotrechiocciolagmail.com ma lui non gli arriva quell'email ma come se io te l'ho mandata lì ma non arriva il 3 era scritto in parola e quindi dobbiamo sincerarci di scriverlo bene noi di scriverlo bene e l'interlocutore di dircelo bene grazie infinite Dario grazie 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 per l'uso del super sticker grazie infinite è molto bello anche il tuo tra l'altro quindi se un'email non arriva il problema è nell'indirizzo o voi lo scrivete male o la persona dall'altra parte ve lo dice male e attenzione che sono tante le persone dall'altra parte che non sanno bene il loro indirizzo di posta elettronica e quindi lo dicono male allora innanzitutto in un indirizzo di posta elettronica c'è sempre una chiocciola questo simbolino qui che molte persone pronunciano all'inglese et ci sono persone che vi dicono test et associazione maggiolina punto it quel et è la chiocciola comunque voi sappiate che vi deve arrivare una chiocciola da qualche parte ci deve essere chiocciola qualcosa quindi se non lo sentite bisogna che glielo chiediate dov'è dimmelo bene perché non è un indirizzo di posta elettronica se non c'è la chiocciola gli indirizzi di posta elettronica non cominciano mai col www ma il mio indirizzo di posta è www danielecastelletti chiocciola gmail.com no non c'è mai il www in un indirizzo di posta elettronica c'è sempre la chiocciola dopo la chiocciola c'è sempre una parola ma sai il mio indirizzo è danielecastelletti chiocciola punto it no dopo la chiocciola c'è sempre una parola associazionemaggiolina punto it libero punto it alicemail punto qualcosa gmail punto com eccetera c'è sempre una parola associazione maggiolina un punto e un suffisso it com eccetera quindi dovete farvelo dire ricordatevi che gmail è punto com per cui se vi sentite dire il mio indirizzo di posta è danielecastelletti chiocciola gmail punto it scrivete tranquillamente punto com perché la maggior parte delle persone si sbaglia a quel punto dice punto it e non è vero non può essere gmail è punto com per cui la vostra responsabilità è quella di riuscire a scrivere l'indirizzo giusto di averlo capito bene eccetera e vostra responsabilità è quello di sapere bene il vostro indirizzo di posta elettronica a memoria meglio quasi del vostro telefono del numero di telefono per riuscire a dirlo correttamente alle persone maiuscole e minuscole fanno differenza se non vi dicono niente è sempre tutto quanto in minuscolo ok quindi io qui ho scritto il mio messaggio di posta elettronica ora scrivo un oggetto ho cliccato qui si è rimpicciolito sono rimpicciolite un po' le cose qui scrivo il mio oggetto l'oggetto è l'argomento del messaggio per quale motivo sto scrivendo questo messaggio richiesta informazioni o proposta di collaborazione non lo so quello che può essere il messaggio domanda tecnica non lo so saluti scrivo saluti e lo mettete sempre perché la persona dall'altra parte vede magari tante email in base all'oggetto da precedenza all'una o all'altra ma anche si rende conto se l'oggetto è plausibile in pratica cosa succede che ormai sta passando un po' di moda però è importante farci caso spesso si ricevono delle email ingannevoli fatte in modo che tu clicchi faccia scelga eccetera scriva e tutto quanto e quindi ci si abitua a vagliare gli oggetti hai vinto tot soldi scegli la tua nuova 500 oppure oggetti in inglese perché la lingua inglese è molto diffusa nel mondo e quindi quando si cerca di fare qualcosa di ingannevole viene spesso fatto in lingua inglese perché così lo si spara a tutto quanto il mondo e il mare è più grande è più facile pescare qualche pesce e quindi come dire se l'oggetto è in inglese io manco so l'inglese non conosco nessuno eccetera posso già sapere che non mi interessa quegli oggetti fanno sì che voi non apriate neanche le email scegli il colore della tua prossima Fiat 500 butta la via tranquillamente quell'email lì perché tanto se tu avessi vinto un'automobile te lo direbbero in un altro modo è solo un modo per ingannarti e attenzione alle email dalle banche perché le banche raramente mandano delle email raramente ti dicono guarda che c'è un bonifico fermo da qualche parte per cui premi qui schiaccia metti la tua password fai per accedere e bloccare e sbloccare tutto quello è un modo che hanno per ingannarvi ma non volevo adesso addentrarmi troppo in questa cosa ne parleremo in un altro gen in un altro momento ma l'oggetto è importante quando scrivo un oggetto plausibile serio non attenzione non tutto quello ciao Daniele volevo se chiederti un'informazione quando uso Excel e premo sulle macro mi capita che quella cosa non la fa secondo te devo fare qualcosa d'altro ma non nell'oggetto nell'oggetto mi chiedi informazioni su Excel domanda su Excel perché l'oggetto non è facile da leggere quando è scritto tutto quanto insieme nell'oggetto si mettono due tre parole una piccola frase corta che descrive il contenuto del messaggio poi qui sotto si scrive il messaggio ciao Daniele ti chiedo queste ti chiedo informazioni eccetera eccetera sì ciao Daniele allora ti scrivo solo per mandarti un saluto e farti tanti auguri a presto Mario salutate firmate sempre io ormai non lo faccio più ricevo talmente tante email che cerco di rispondere velocemente che perdo un po' l'eleganza e la cortesia nei messaggi ma ci vogliono quindi salutate fate chiedete le vostre cose poi di nuovo si si risaluta c'è una una formula di commiato e ci si firma anche nei whatsapp io ricevo un mare di whatsapp ciao Daniele come stai bene però non so chi sei perché il numero di telefono non non mi dice niente se io non ti ho memorizzato non so chi sei e quindi mi capita spesso di leggere queste cose anche nei messaggi whatsapp si tende a non salutarsi certo se scrivo a un familiare non è che mia moglie dico ciao come stai sono Daniele eccetera lì ci siamo ma se scriviamo al medico ormai anche i medici usano whatsapp non è che gli dici senti ma quelle analisi vanno bene oppure no scrivi un attimino come si deve ti firmi anche perché lui non ha memorizzato il tuo numero nel suo cellulare quindi non sa chi sei e la stessa cosa per le mail un po' di forma l'italiano al massimo delle nostre possibilità quello che scrivo è il mio aspetto perché mi si vede solo per quello che ho scritto non è che dobbiamo essere dei geni della letteratura ma insomma fin dove arrivo cerco un attimo di metterci della buona volontà e di scrivere come si deve e basta quindi io ho scritto l'indirizzo ho scritto l'oggetto ho scritto il testo questa cosa qui è una firma automatica che in questo momento non voglio non voglio trattare nel senso è una cosa di cui parleremo più avanti quindi di solito non c'è invio il messaggio e lui va e quindi ho scritto la mia prima email col computer stesso discorso col telefonino e fin qui è tutto semplice quindi mandare un'email è semplice scrivi indirizzo oggetto testo ok fine dei discorsi se voi scrivete a test chioccio associazione maggiolina punto it quella casella di posta è un risponditore automatico è di prova l'abbiamo messo lì perché voi possiate fare delle prove e quindi vi risponde io adesso posso premerci sopra e l'oggetto quello che risponde è questo vediamo verifica ricezione messaggio risposta automatica ciao il tuo messaggio di prova è arrivato correttamente ben fatto bla 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 eccetera ok ciao è un genio bello il tuo il tuo account lo penso sempre grazie infinite per l'uso del super sticker grazie grazie infinite quindi usatelo pure tranquillamente quella quell'email di test e provate a mandare messaggi potrebbe essere letta nel senso che quindi non scriveteci cose personali ciao qualcosa i test non vengono mai letti ma la possibilità che uno schiacci sul messaggio per vedere che cosa ha ricevuto quella casella di posta elettronica c'è quindi usate per fare usatela per fare dei test e vi risponde automaticamente ma sappiate che magari la legge qualcuno ok però non scrivete niente non aspettatevi una risposta a una domanda quella fatela info chiocciola associazione maggiolina punto it questa casella è proprio un test e basta ok allora approfondiamo il discorso visto che abbiamo visto tante volte come mandare un email devo inviare un allegato e qui magari ci lavoreremo più volte cos'è un allegato vuol dire che io insieme al messaggio al nuovo messaggio vado su scrivi così ho un nuovo messaggio eccolo qua ho sbagliato eccolo qua insieme al nuovo messaggio io tolgo la firma voglio mandare anche un file un qualcosa di digitale un qualcosa che ho nel mio computer devo mandare una dichiarazione di salute devo mandare una fotografia devo mandare un video devo mandare una canzone devo mandare una lettera di word devo qualcosa che ho a computer devo prenderlo e mandarlo insieme a questo messaggio cosa faccio? faccio la stessa cosa destinatario test chioccio l'associazione maggiolina punto it oggetto invio allegato 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 di word eccetera e poi ciao daniele ti invio eccetera eccetera quello puntini poi saluto mario ok ora devo mettere l'allegato quindi io sto per inviare qualcosa scelgo di allegare questa graffetta serve ad allegare un qualcosa un file è proprio la graffetta che voi utilizzate per tenere insieme due fogli premo su allegato a questo punto si apre il mio computer eccolo qua io mi trovo da qualche parte e devo spedire qualcosa mando un esercizio vado su esercizi vado a cercarli mando l'esercizio antibiotico che è un file di word a una una persona quindi prendo premo su antibiotico dico apri questo file viene caricato questa barra blu che si è vista qua è il caricamento e questo oggetto è ora allegato al mio messaggio quando io vado a premere su invia lui se ne va e viene allegato al messaggio e l'altra persona lo riceve lo rifacciamo posso mandarne anche due se voglio quindi lo rifacciamo di nuovo graffetta adesso la graffetta è un po' diversa perché in pratica se guardiamo bene adesso questo simbolo qui è una graffetta già attaccata al foglio vuol dire che c'è già un foglio graffettato ne andiamo a infilare sotto un altro queste piccolezze mi fanno sempre pensare ai programmatori che hanno fatto questa cosa e hanno voluto darci anche l'informazione di un allegato già presente ogni singola sfumatura va programmata bisogna averci pensato bisogna aver faticato per farlo quindi ammiro sempre quando vedo queste cose chi lo ha fatto premo su allega file stavolta mando qualcosa d'altro mando un pdf internet ricerca per sito amici questo è un esercizio che abbiamo fatto insieme con gli abbonati tra i video abbonati apro di nuovo il caricamento ecco che ci impiega un po' di più perché forse era un po' più grande sì 46 kilobyte 232 kilobyte quindi un po' di più e adesso ho due allegati al mio test quando arrivano dall'altra parte ci sono due file in allegato attenzione che è in gmail il limite è di 25 megabyte se io voglio mandare allegati per più di 25 megabyte mi dicono che non si può perché non ce la fa tecnicamente chi deve trasportare il messaggio dice no senti io sono in motorino sono il postino in motorino non ci sta la tua valigia da 50 chili non ci sta quindi utilizza il corriere utilizza un altro sistema per cui gli allegati entro i 25 megabyte intanto saluto Michele e lo ringrazio per l'uso della super chat grazie 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 infinite Michele grazie vedo in un sacco di mi piace grazie ragazzi per il mi piace per noi sono importantissimi ok e quindi spedisco il messaggio basta tutto questo è ciò che devo fare per inviare un messaggio con un allegato ci occuperemo in seguito gli amici che seguono il corso sul telefonino hanno già visto come fare per mandare un allegato superiore alla dimensione dei 25 megabyte perché utilizzeremo il link però per il momento ci fermiamo con questo discorso abbiamo spedito un messaggio posso dare un suggerimento quando io vado su scrivi devo inviare un allegato prima di scrivere l'indirizzo prima di scrivere l'oggetto prima di scrivere il testo metto l'allegato perché mi capita praticamente sempre di scrivere l'indirizzo scrivere l'oggetto scrivere il testo e premere su invia dimenticandomi dell'allegato caspita mi sono mi sono dimenticato l'allegato e quindi mi tocca mandare un'altra email facendo la figura di quello che si è dimenticato dicendo scusa questo è l'allegato e quindi di solito quando sono più furbo parto direttamente con allega file allego file lo scelgo questa volta mando la storia del jazz apri lo allego e dopo mi metto qui e vado a mettere in destinatario info no cos'era test chioccio l'associazione maggiolina punto it oggetto invio storia del jazz la z non con la x e testo eccetera ho visto che gmail è diventato talmente furbo è andato talmente avanti che se io scrivo ti invio un allegato e poi faccio invio sbagliandomi dato che c'era nel testo la parola allegato lui mi dice senti ma hai detto che invio un allegato e l'allegato non ce l'hai messo vuoi mettercelo e quindi ce lo metto però siamo più furbi in partenza e mettiamo l'allegato prima di scrivere l'indirizzo e ci siamo quindi fine del nostro discorso però dato che siamo qui intanto saluto Eugenio grazie di essere tornato con noi tra gli abbonati la tua maggiolina gialla mi dice che sei uno dei nostri fedelissimi grazie di essere di essere con noi Eugenio e dicevo questo ci diciamo un'ultimissimissimissima cosa una particolarità dell'invio delle email con Gmail io questa questa email voglio mandarla per la festa dell'8 marzo ti auguro una buona festa della donna la scriviamo così Daniele questa volta facciamo finto di mandarlo a una persona di sesso femminile però non voglio mandaglielo adesso perché l'8 marzo non è adesso oggi è il 3 e il 4 no il 3 marzo ok quindi accanto ad invia c'è la freccina e c'è programma invio premo su programma invio e vado a dire mandalo l'8 marzo c'è già qui l'8 marzo perché probabilmente è una festività particolare altrimenti andrei su scegli data e andrai a scegliere marzo 2021 posso programmare anche più avanti marzo 2021 e c'è già l'8 marzo premo a che ora no le 19.34 che altrimenti dici caspita quello lì si è ricordato all'ultimo minuto alle 9 di mattina dai non troppo presto alle 9.00 ok programma l'invio e basta a questo punto il mio messaggio è programmato invio programmato per lunedì 8 marzo ore 9 quindi ho inviato un messaggio come al solito però ho chiesto la programmazione fatto se io guardo qui in programma adesso ci sono due messaggi perché uno l'ho programmato tanto tempo fa premo e vedo quelli che sono i messaggi programmati c'è una storia del jazz programmato per l'8 marzo e un promemoria importante programmato per il 23 aprile 2024 e quindi queste email adesso stanno qui e più avanti saranno inviate ok ci fermiamo qua con l'argomento vediamo che cosa mi avete detto nelle domande qui nella chat così rispondo a un po' di domande e ci facciamo un po' di compagnie in questo modo qui bene allora andiamo a vedere che cosa mi avete detto eccola qua la riga c'era anche qualche domanda prima ne leggo una vedo Ivano che dice che app usi per vedere la velocità della tua linea utilizzo speed test questo speed test e mi piace questo esegui test della velocità questo senza senza niente nel senso che c'è solo la schermata della velocità per cui non ci sono immagini pubblicitarie o grafiche in genere perché così resta più pulito nel senso che la linea è impegnata solo a fare il test della velocità non posso farlo in questo momento perché la mia linea è sotto sforzo già per la diretta se facessi anche il test vedrei un calo di prestazioni della diretta allora poi vediamo che cosa che cosa ci diciamo intanto saluto Giuseppe che dice ciao Daniele iscritto da poco ma prossimo abbonato bravo Giuseppe grazie per esserti iscritto e anche per l'intenzione di abbonarti allora poi bravo Ennio che hai fatto la riga Arianna dice stasera dopo tanto ci sono anch'io ciao Arianna allora bello sapere che sei anche tu Arancina dice a proposito di connessione ma se io mi appoggio al wifi di chi vive con me lui come amministratore può andare a curiosare e a vedere su che si ti vado no diciamo che a livello wifi normale di casa così no non si vede se parlassimo di wifi aziendale o comunque di navigazione internet aziendale nel senso che in pausa pranzo tu navighi mentre ti mangi il panino adesso va di moda così nella tua azienda i sistemi informatici della tua azienda sono in grado di rilevare e di far vedere dove sei stato a navigare perché i computer sono tutti collegati perché c'è una questione di sicurezza eccetera eccetera se tu sei a casa con qualcuno a casa di un amico sei ospite di un amico per un po' di tempo navighi col suo wifi tuo cellulare tuo wifi non si vede dove sei dove sei stato quindi puoi farlo tranquillamente poi Bruno ciao Daniele hai mai fatto un tutorial su iPad no Bruno perché mi manca l'iPad abbiamo fatto qualcosa su iPhone quando ho avuto per un periodo il telefonino dell'iPhone quello qua iPhone però è passato un sacco di tempo non era nuovo neanche allora perché costano un sacco e quindi ancora ancora no ma magari gli amici della mela valutano questi corsi validi e me ne prestano uno per fare il corso lo farei volentieri allora poi Franco dice buonasera a tutti ciao Franco Elvira dice Daniele io ho uno Xiaomi Mi 8 Live non riesco ad usare hotspot il mio telefono mi dà la voce hotspot personale ho eseguito il tuo video ma non va forse sbaglio qualcosa Elvira ci sono da fare delle impostazioni per quanto riguarda i codici del gestore telefonico nel senso che tu hai una compagnia telefonica con cui navighi di cui hai i dati internet questa compagnia telefonica ha degli indirizzi particolari che devi settare nel tuo telefono una configurazione internet del telefonino in questo momento non ho sotto mano diciamo la possibilità di farti vedere non ho il telefono collegato eccetera quindi non posso dirti di più però va fatta questa registrazione vediamo se troviamo qualcosa su google tanto per capire impostazioni internet metto o o iliad o poste mobile o copvoce o wind così li abbiamo detti tutti scelgo la o e ti dicono come configurare il cellulare l'APN devi configurare per cui vai a premere lì e ti danno delle cose delle cose delle scritte in definitiva da andare a scrivere in un posto particolare del tuo telefonino per far sì che funzioni come si deve tante volte le compagnie tramite le loro app ti fanno anche la configurazione da remoto cioè nel senso tu devi schiacciare configurazione internet e loro ti configurano il telefono direttamente però devi cercare da quel punto devi cercare lì secondo me allora poi e magari qualche volta in conferenza riusciamo a vederlo o in un altro video riusciamo a vederlo adesso non mi è possibile poi Roberta ciao buonasera a tutti ciao Roberta Mauro ciao Mauro Bruno se sì mi diresti qualche mi daresti qualche ditta dove trovarli in alternativa pensi di realizzarlo al discorso di dell'iPad non lo so mai dire mai però non lo so se farò un corso su iPad perché non è uno strumento che utilizzo ripeto lo farei volentieri ma l'acquisto è piuttosto oneroso e quindi a meno che non me lo prestino come capita magari in alcune circostanze volentieri se no ci vorrà del tempo non lo so però quelli su iPad o iPhone sono la stessa cosa i nostri sono un po' vecchiotti ormai perché è passato del tempo e quindi servirebbe qualcosa di più recente saluto Zeddo ciao Zeddo Frenchy dice ciao che video farai su programmazione ancora non lo so però qualcosa ci sarà poi Arianna quindi Gmail va bene Gmail va bene per un sacco di cose so che è un'azienda commerciale diciamo è gratuita funziona bene eccetera eccetera lo stanno usando in tanti e c'è un motivo per questo quindi Gmail va bene Sergio Google Mail Forever dice Sergio anche lui è molto selettivo per cui bravo Sergio Rosanna Daniele sono nuova vorrei sapere come prendere da internet dei video e postarli su Facebook allora prendere dei video su internet è un problema nel senso che c'è il problema del copyright nel senso che tu devi essere l'autrice di quei video per diffonderli a meno che tu non abbia il permesso eccetera ci sarà sicuramente qualche sito internet per prendere dei video liberi da diritti d'autore non ne conosco ci sono dei siti internet dove tu paghi un canone per prendere quei video però non ne conosco posso dirti per le foto tanto per farti un esempio io utilizzo www.pixabay.com non mi ricordo mai se com o it .com e queste immagini che io trovo qua dentro sono libere da diritti d'autore in pratica in questi casi come funziona tu carichi tu puoi venire qui e prendere le immagini e usarle liberamente di ogni immagine cioè quando io premo su un'immagine qui c'è scritto la licenza libera per usi commerciali no attribuzione richiesta nel senso che posso usarla a scopi commerciali anche a scopi commerciali senza necessità di citare l'autore che è questo questo è l'autore ovviamente l'autore poi ne ha anche magari di più belle che vende però ne mette a disposizione un po' di gratuiti e quindi queste le posso prendere e utilizzare gratuitamente posso a mia volta condividerlo siccome io lo utilizzo quindi ne parlo con piacere perché lo utilizzo e per a volte copertine per a volte insomma devo far vedere delle cose le immagini a volte le prendo da qui quando non le faccio io e ho condiviso anch'io delle foto ho messo qui anch'io delle mie foto per gli altri utenti così in forma di reciprocità però non c'è non c'è obbligo e quindi queste foto sono messe lì da tanti utenti in modo che tu vieni scegli qualcosa e ci sei la stessa cosa per i video però non so indicarti non ho niente al volo da poterti indicare per fare queste cose allora poi vediamo un po' Olindo mi dice ho due indirizzi di posta elettronica con Alice uno di tanti anni fa quando mi abbonai con la DSL e l'altro di un di un fa con la fibra voglio eliminare il primo ma non so come fare mi dai l'input allora la maggior parte delle volte lo si abbandona semplicemente smetti di usarlo un po' alla volta ai tuoi amici scrivi con l'indirizzo nuovo e dopo nei vari siti dove l'avevi dato vai a cambiare le impostazioni e poi lo lasci lì smetti di usarlo smetti di usarlo per un po' eccetera difficilmente si riesce a cancellare solo in tempi recenti le varie compagnie permettono di cancellare un account non so nello specifico quelli che utilizzi tu se danno la possibilità di rimuovere l'account il suggerimento che ti posso dare è scrivere su google voglio cancellare l'indirizzo di posta tu mi dici Alice magari Alice Mail eccetera cancellare l'indirizzo e il nome esatto ma non sempre si può generalmente si smette di usarlo e dopo tanto tempo che tu non lo usi loro lo comprimono e dicono vabbè questa persona non lo sta più usando mettiamo in pausa i suoi servizi e dopo dopo tanto tempo magari ti toglieranno ma passa molto tempo perché a volte le persone stanno magari 5 anni senza usarlo poi gli viene in mente caspito quell'indirizzo lì ci vado e magari ho dentro delle cose importanti eccetera quindi le aziende sono un po' in difficoltà nel farti cancellare le cose per cui non crea non c'è nessun problema l'importante è che tu ti preoccupi di migrare i tuoi amici e i tuoi siti importanti su altri indirizzi mail però non creiamone tanti inutilmente perché proprio poi lasciamo in giro tutte queste cose che magari dà anche un po' fastidio non lo uso più mi piacerebbe chiuderlo ma non sempre è possibile ciao Komazawa ciao Alberto Bianca dice Daniele il tuo desktop è tutto sfocato una questione di linea telefonica se guardi sotto il video c'è un ingranaggio una rotella ci premi sopra e dove ci sono i numeri devi alzare i numeri in modo che si veda meglio in modo che il tuo computer scarichi più dati internet per vedere più a fuoco di solito si regola basso quando ha la linea telefonica in un momento di difficoltà quindi lui se è in automatico va in basso per permettere di vedere bene di vedere continuamente anche se non bene allora poi vediamo cos'altro si dice dunque Paolo dunque aspetta no non voglio saltare nessuno Arianna dunque Bianca Daniele ok poi Arianna la newsletter della banca personale sì però se la banca ti manda la newsletter sì potete leggere le email della banca però attenzione alle email che in qualche modo vi invitano ad entrare nel vostro conto perché servono a ingannarvi e a non farvi entrare nel vostro conto sembra la banca che mi scrive loghi colori tutto la banca mi scrive e dice senti entra perché c'è un problema con la tua carta di credito senti entra perché c'è una bolletta non pagata senti entra perché guarda che qua c'è un pasticcio devi risolvere subito tu pensi di entrare nella tua banca invece ti colleghi a un sito di persone che diciamo ti vogliono ingannare uguale molto simile e tu metti le tue credenziali e poi non succede niente perché tu hai fornito in quel momento le tue credenziali a persone che ti vogliono ingannare non alla banca quindi attenzione a leggere le email della banca le banche cercano di mandarne meno possibile proprio perché altrimenti le persone sono ingannate più facilmente e diciamo che prima o poi un po' tutti quanti ci cadiamo dentro e quindi se vi è capitato non fatevi troppi problemi a segnalarlo alla banca perché va sistemato allora vediamo un po' Roberto dice si vede bene Arianna dice mi riferisco all'argomento della mail della banca ok avevo capito Dario dice Egregio Daniele ho una stampante Samsung ora la macchina non stampa più in fronte retro lampeggia il led rosso carta inceppata ma dentro non c'è niente cosa fare? metto il like bravo Dario mettete il mi piace ho visto che l'avete messo in tanti la stampante dipende da quanto tempo ha se da carta inceppata può essere che effettivamente nel giro carta si chiama ci sia anche un pezzettino un angolino che magari si è rotto in passato eccetera e quando passa il foglio se ne accorge e quindi si blocca o può darsi che i gommini i rulli che prendono la carta girala di qua girala di là eccetera hanno una rugosità sono di gomma hanno una rugosità che gli permette di fare presa sulla carta e di trascinarla con il passare del tempo quella rugosità lì a forza di sfregare sulla carta si 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 consuma diventano lisci e lo girano ma la carta non si aggrappa e quindi a un certo punto dice carta inceppata se è quello il caso vanno grattati con un pochino di carta vetra leggera eccetera vanno fatti dei tagliettini col taglierino un pochino per ridargli un po' di rugosità e ridargli la presa ovviamente ce ne sono tanti di quei gommini magari sono dentro e quindi sono difficili da raggiungere andrebbero cambiati naturalmente e quindi la prima cosa è guardare che non ci sia della carta dentro magari in una posizione in cui non pensavi che ci fosse e sperare che non sia un pezzettino rotto perché senza smontarla non riesci e poi il discorso rollini poi senza vederla non ti so dire altro Arianna mi dice come si fa a mandare una mail di risposta automatica ho fatto mail ad una collega e mi è arrivata una risposta automatica che era in ferie e avrebbe risposto al suo rientro ne abbiamo parlato in un'altra email in un altro video torneremo ancora a parlarne vediamo se trovo qualcosa non è difficile ma ci vuole un po' a far vedere allora correttore automatico due funzioni avanzate guarderei questo video qui rispondere in automatico e la modalità riservata capitoli musiche iniziamo ok direi questo gmail 41 del corso dell'anno scorso 2019-2020 ne parleremo ancora anche noi però invece di aspettare 41 gmail due funzioni avanzate così lo puoi puoi già vedere come funziona allora poi attenzione a dire sono in vacanza nei mail in automatico sono via da casa eccetera incontro attività eccetera allora Bruno una buona serata a tutti ciao Daniele ciao Bruno aspettate che mi è scappata la chat eccolo qua Rinaldo Rinaldo dice non riesco a scaricare l'app di Asmaggiolina e gli esercizi di programmino in C grazie Daniele allora l'app Asmaggiolina funziona solo su Android se hai un cellulare Android perché la app Asmaggiolina funziona solo sul cellulare se hai un cellulare Android vai sul come si chiama vai sul Play Store di Google scegli app Maggiolina ti salta fuori la nostra app e dici installa e quella te la installa sul cellulare Android e sei a posto per quanto riguarda gli esercizi in generale tutti gli esercizi puoi fare in due modi uno andando nel sito Amici di Maggiolina vedo che tu sei abbonato intanto grazie Rinaldo per essere abbonato a questo punto dato che sei abbonato quindi un nostro sostenitore puoi accedere al sito Amici di Maggiolina come si fa per accedere al sito di Maggiolina partiamo da zero sono su una nuova scheda vado su www.associazione associazione maggiolina.it però devo proprio scriverlo maggiolina.it vado raggiungo il sito vado su amici questa è la pagina degli amici di Maggiolina dove ci sono le istruzioni cose che tu comunque essendo abbonato hai già fatto e devi fare compilare il modulo di richiesta tessera premi qui compili il modulo di richiesta tessera alla nostra associazione a quel punto dopo qualche tempo in giornata di solito ma dopo qualche tempo ricevi viene scritto manualmente quindi ad esempio magari c'è qualcuno che compila il modulo alle 4 di mattina perché è lì che guarda i video grazie ma poi viene letto da qualcuno e si risponde a quell'email per cui deve essere sveglio quel qualcuno per rispondere per cui dopo qualche ora con un invito riceviamo un'email con un invito ad accedere al sito amici di Maggiolina se premo su accetta invito che deve essere un'espressione di volontà il fatto che riceviamo queste mail e poi si entri a far parte del gruppo se uno accetta l'invito poi premendo dopo che ha accettato l'invito premendo su entra ora arriva nel sito amici di Maggiolina dove quotidianamente aggiorniamo con i nuovi contenuti e quant'altro nell'elenco di tutti i corsi qui ogni corso ha il suo esercizio tu cercavi programmazione in C vediamo programmare in C scarica gli esercizi premo arrivo in questa schermata dove ci sono tutti gli esercizi per scaricarli tasto destro scarica l'esercizio arriva sotto forma di file eccolo qua nel mio computer a quel punto è mio nel mio computer posso farne quello che voglio modificarlo provarlo fare tutto quello che voglio tanto sul sito nel solito luogo c'è sempre l'originale immutato sempre per poter essere scaricato da qualcun altro o anche da te per dire ok questo l'ho rovinato aspetta che ne prendo un altro e lo risistema però volendo scaricare gli esercizi di alcuni corsi si può anche inviare un'email ad esempio scrivendo a facciamolo facciamolo visto che siamo con gmail quindi chiudiamo un po' di cose chiudo 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 sono con gmail io adesso scrivo scrivo a esercizi c esercizi c chioccio l'associazione maggiolina punto it il mio computer lo sa già perché abbiamo già scritto qui mandiamo un saluto è un risponditore automatico cioè si risponde in automatico però l'email viene letta quindi magari scrivetemi qualcosa richiesta esercizi ciao Daniele sono interessato agli esercizi di programmazione in C come posso ottenerli grazie Mario questo lo cancelliamo sempre e invio il messaggio basta a questo punto adesso tra qualche istante il messaggio verrà inviato qui c'è qualche secondo il messaggio inviato e a un certo punto un risponditore automatico mi dirà cosa devo fare come fare vediamo cosa dice in questo caso non mi ricordo com'è quello allora il messaggio è stato inviato ecco che è arrivata la risposta premo qui sopra vediamo esercizi corsi e programmazione in C ciao ci fa molto piacere che il nostro corso ti piace eccetera 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 questo è il link dal quale puoi scaricare gli esercizi premo ed eccoci allo stesso posto eccetera alcuni esercizi sono scaricabili solo dagli amici di Maggiolina perché sono corsi particolari altri invece sono liberi e chiunque scrivendo questo esercizio lo può scaricare e quindi scrivendo questa email può scaricarlo per cui basta scrivere all'email sotto ad ogni video adesso questo è un video sotto al video c'è una descrizione ci sono un sacco di cose ci sono anche gli indirizzi email ai quali scrivere per ottenere gli esercizi di programmazione o quant'altro eccetera allora poi vediamo Claudia dunque aspetta vediamo qua siamo con Rinaldo e ci siamo poi Dario dice complimenti vivissimi la lezione è chiarissima cosa fare quando la striscia blu dell'allegato si blocca o è molto lenta cosa fare mi piace doveroso saluti Dario ciao Dario allora quando la striscia dell'allegato qui è molto lenta i problemi possono essere due allora quella è caricamento in corso se la striscia è molto lenta vuol dire che il file che sto mandando è abbastanza pesante nel senso devo mandare tante cose e quindi a volte si tratta semplicemente di aspettare che abbia finito se si blocca può darsi che sia troppo grande quel file o è un problema di linea telefonica la tua linea in quel momento non ce la fa e quindi o provi in un altro momento o non lo so ti colleghi con una linea diversa però 25 MB non sono tanti tanto c'è il limite dei 25 quindi si tratta di aspettare un pochino però verifica quando si blocca che non ti dica guarda che hai superato il limite dei 25 MB quindi non lo fa perché sono troppi facciamolo facciamolo sto spedendo qualcosa di troppo grosso allora io vado su qui scrivo a test chioccio associazione maggiolina oggetto ti invio in invio di un video ti mando scriviamo bene ciao daniele ti mando il video sulla sulla gmail mario allega vado a scegliere un file vado in video ne vado a scegliere uno qualsiasi sono tutti grandi apro e poi mi ferma già subito vede già che sono oltre i 25 MB e mi dice guarda saranno gli allegati di dimensioni superiore saranno caricati automaticamente in Google Drive nelle tue email sarà incluso un link di informazioni è bravo perché fa da solo lo esploreremo in un'altra circostanza però se carica lento linea del telefono o file troppo grande o linea del telefono non si può fare altro allora vediamo un po' Claudio ma si scoprono sempre cose nuove grazie devo dire Claudio che è così anche per me quindi non mi stupisce grazie di averlo scritto ma è così anche per me Franco ma se voglio mandarla a più persone e questa cosa non l'ho detto volutamente perché c'è un discorso più lungo però qui dove c'è l'invio clicco e aggiungo un'altra persona info pioccio l'associazione maggiolina.it daniele pioccio l'associazione maggiolina.it questa email viene mandata a tre persone a test a info e a Daniele Castelletti e poi c'è tutto un discorso quindi lo amplieremo in un prossimo video questo discorso delle più persone perché ci sono delle sfumature importanti da citare poi Alberto ciao Daniele la cronologia di navigazione impegna memoria nel disco C? assolutamente no quindi non cancellarla per una questione di memoria perché non impegna memoria Marcella vediamo l'orario ma siamo arrivati in fondo vabbè dai prendiamo ancora un paio Marcella salve Daniele io quando allego un documento in un'email non lo apro sbaglio faccio due click sul documento e si allega importante Marcella non si apre il documento fai bene così quando io vado ad allegare non è che devo arrivare qui in esercizio dov'è dirmi ah antibiotico era questo era questo era campanella questo campanella quello no vuol dire che sono organizzato male il nome del file deve farmi capire esattamente di cosa si tratta quando vengo qui non posso aprire il documento è un traffico non posso farlo adesso quindi fa bene Marcella non lo si apre lo si sceglie e lo si allega se non sono in grado di sceglierlo non sono stato bravo non ho salvato il documento con un file adeguato non posso guardarlo in questo momento ogni file deve essere salvato in maniera chiara per me e quindi io so che antibiotico no f è un tipo di file e antibiotico e basta è un altro tipo di file e quindi dovete essere organizzati perché qui non potete mettervi a guardare tutti gli allegati dovete semplicemente allegare quindi allego copia e incolla questo apri e basta io so già di cosa si tratta se non è così prima di fare l'email vado a guardare scelgo poi vengo a fare l'email però dovete ragionare sul vostro modo di organizzarvi perché non state facendo bene allora ciao libero Jacqueline il tuo consiglio sull'allegato è proprio azzeccato avendo fatto l'errore ma lo facciamo tutti e quindi non è che non è che me l'hanno consigliato mi sono detto caspita devo diventare un po' più furbo sugli allegati allora Stefano su smartphone cose cose segno tutte in un colpo solo come email come come segno tutte le email come lette non lo so non ci ho mai pensato perché io le leggo semplicemente lo apro la leggo eccetera oppure la cancello senza leggerla se quella non mi interessa tengo premuto tengo premuto tengo premuto e quelle le butto via direttamente non so se si possano segnare tutte come lette non ci ho mai pensato Anto il mio test è Maggiolina se vedo Daniele la linea ok grazie grazie infinite Anto Licia Daniele mi puoi dire come aggiornare la rubrica di gmail come succede per la posta di libero ci dovremmo ragionare adesso è tantissimo che non uso la posta di libero quindi non so fare paragoni ma aggiornare la rubrica di gmail sì in linea teorica comunque se il tuo account gmail è uguale è lo stesso del tuo telefonino ti trovi tutto dentro in aggiornamento automatico però sì ci ragioneremo ci dedicheremo del tempo sulla rubrica grazie Licia del suggerimento allora Andrea dice io ho cambiato email non so devo eliminare oppure no quella vecchia immagino puoi anche evitare di eliminarla se eliminate un account email dovete essere super bravi super certi di fare la cosa giusta perché se sbagliate ne eliminate uno diverso se fate un pasticcio poi queste cose sono più difficili da risolvere quindi piuttosto di imbarcarvi in un lavoro un po' complicato come eliminare un account se non avete dimestichezza lasciatelo lì non succede niente evitate di fare di fare pasticci Giuseppe dice ciao Daniele fra un po' sarò abbonato volevo chiederti perché in Aruba Pec non riesco a leggere gli allegati grazie sei in gamba e non so dirti Giuseppe in teoria l'allegato va scaricato e poi letto però non so dirti nello specifico dove sia il problema noi lo vedremo qui adesso ne abbiamo inviati in un altro momento ragioneremo su come leggerli però non so non so darti una mano in questo in questo momento senza vederti mentre lo fai senza vedere la tua Aruba Pec io non ho e non conosco da tempo insomma Libero come faccio a cambiare percorso alla cartella download vorrei fosse in questo pc grazie Daniele allora questa cosa si fa qui dai pallini è diverso il discorso in questo pc non esiste non può essere in questo pc può essere nel disco c o nel disco d o nel disco e o nel disco f questo pc non è un disco vediamo bene il discorso qui apro esplora file ecco che mi si è aperto non può essere in questo pc questo in pc è inteso qui mentre invece se intendi qui è un altro discorso queste sono le cartelle recenti ma qui ce le hai già quando vai in questo pc ce le hai già in ogni caso devi mettere la spunta cioè devi andare sulla cartella download a fare tasto destro e dire dove aggiungi ad accesso rapido quindi una qualsiasi cartella questa è già nel posto allora vado a prendere vado in documenti e prendo storie tasto destro aggiungi ad accesso rapido vediamo se ce l'ho aggiungi ad accesso rapido questa è venuta la spunta adesso quando vado su questo pc dovrei vederla no non c'è neanche la trovo solo qua quindi non ci va qui ci vanno solo queste qui predefinite e quindi è diverso il discorso fatemi togliere questa storia e rimuovi da accesso rapido nel senso che la cartella download è proprio una cartella che si chiama download posso cambiargli posizione e quindi spostarla dal disco c al disco d per esempio se faccio tasto destro proprietà sposto la cartella download vado su percorso cambio il disco la sposto da una parte all'altra però facciamolo con molta attenzione c'è un video apposito dove abbiamo parlato di questa ma cambiamo solo la lettera non la scritta importante e lui la sposta quindi io l'ho voluta sul disco d anziché sul disco c quindi qui c'era una c ho cambiato con la d ma lei è sempre lì altro discorso è cambiare la cartella di download cioè la cartella download esiste ma io voglio che google chrome scarichi i file altrove quindi allora imposto google chrome dunque l'ho perso eccolo qua imposto google chrome in maniera diversa vado sulle impostazioni di chrome impostazioni quindi pallini incostazioni e adesso chissà dov'è ma da qualche parte c'è download eccolo qui avanzate download posizione di download cambia e io cambio la cartella anziché download è già in questo pc ma è comunque nel disco nel disco che ho scelto io nel disco d e potrei dire vai in da cancellare e allora i miei file scaricati con google chrome vanno dentro un'altra cartella quindi adesso faccio nulla per lasciare tutto normale devi un attimo capire bene qual è il tuo desiderio e basta poi ci sono un sacco di altre domande ci fermiamo qua ragazzi perché altrimenti non finiamo più ci vediamo in diretta mercoledì prossimo grazie di essere di essere stati con me ci fermiamo e di avermi fatto tutte queste domande ci vediamo in diretta mercoledì prossimo ora sapete che siamo anche in conferenza prima della diretta un'oretta prima siamo in chat un'oretta prima tutti i video siamo sul canale potete scrivermi a info chioccio l'associazione maggiolina.it oppure commentare sotto ai video e cerchiamo un po' di rispondere a tutti anche se non sempre ci riusciamo perché ormai siete in tanti e perché molte domande sono più complicate tante volte è proprio durante la conferenza che riusciamo a risolvere le situazioni non sempre ma ci proviamo e basta domani ci sarà un nuovo video sul canale tutti i giorni c'è qualcosa per cui vi aspetto e vi ringrazio di tutte le super chat super sticker e abbonamenti che ci danno un sostegno molto importante vi ringrazio dei tanti mi piace che avete voluto mettere fate ancora in tempo a metterne qualcuno se volete e basta ci vediamo la settimana prossima in diretta allora sono pronto a salutarvi quindi devo andare sul mio programma di streaming e prepararmi a salutarvi ciao ragazzi grazie grazie ancora a salutarvi 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 Grazie a tutti.